Allora ragazzi, vedete che questi sono dei billetti del velenoso Però se costano qua Guardate Solo che sono già, guardate, in questione Allora ragazzi, è il 22 settembre 2020 Qua c'è il primo porcino Ne ho lasciati due piccoli Invece questo è perfetto La misura che piace a me è bello fresco Wow Meraviglioso Un bellissimo tombolotto Oggi la qualità è eccezionale ragazzi Si sono abbassate un po' le temperature Wow Meraviglia E che belli oggi Da mettersi a tolire sono perfetti Wow Altro bellissimo momento E che patata Wow Poi andiamo a prendere il fratello Porcini belli freschi Miravigliosi Wow Che giornata anche oggi Oh che porcino Che gambo Aggettivo libero Perfetto Wow ragazzi Un altro bellissimo porcino Che meraviglio Che meraviglia Sta iniziando a piovere ma Oggi è una giornata da riempire la cesta Un gambo Wow C'era uno spettacolo Incredibile Wow ragazzi Anche oggi sarà una bellissima giornata Abbiamo un bellissimo porcino qua Poi andiamo qua Uno piccolo che lasciamo Poi c'è questo qua Poi c'è questo qua E poi Questo qua Wow Meraviglioso Un altro bellissimo qua Wow Senza parole Wow Che porcino Uhhh Un bacio Qualità Top Aggettivo libero Wow Wow Bellissimo bosco Sta piovendo piano E qua Un altro Bellissimo Porcino Che qualità oggi Meraviglioso Porcini bellissimi Uno qua Che lasciamo Invece questo In misura E lo raccogliamo Belli freschi Altro momento magico Un bellissimo faggio Che meraviglia Wow Ecco Questa Che questo D'aggettivo libero C'è anche la rumachina Attaccata Volevamo Mangiarselo Invece ce lo mangiamo noi, una girandola di emozioni, uno piccolo che qua lasciamo, poi questo che invece prendiamo, si è rotto ma sanissimo, poi andiamo qua, questo lo raccogliamo, poi ci giriamo ancora, andiamo qua, questo qua che raccogliamo, che qualità oggi, poi ci spostiamo là e raccogliamo anche questo qua, che giornata ragazzi, wow, meravigliosi, da restare a bocca aperta, abeti, faggi, che meraviglia, qua cosa c'è, che porcino, e là, altri due, raccogliamo questo, che meraviglia, da aggettivo libero, meravigliosi, perfetto, poi andiamo qua, e raccogliamo i due gemelli, mettiamo questo qua, momento magico ragazzi, il terzetto, incredibile, meraviglioso, allora ragazzi, stavo pulendo questi tre, che ho appena trovato, ho alzato l'occhio di là, così, e guardate, guardate che bomba ho trovato, che bomba, meraviglioso questo, un saluto a Bruno Pelosi, sta un po' spioviginando, queste sono le bombe che piacciono a te, chiudiamo il buco, scendiamo, che meraviglia ragazzi, momenti indimenticabili, guardate che belle teste, incredibile, un altro bellissimo momento, un bellissimo porcino qua, poi andiamo qua, quest'altro è meraviglioso, wow, poi, andiamo qua, guardate che patata, wow, sono due, incredibile, che lavoro ragazzi, poi quest'altro qua, poi scendiamo, ce n'è un altro là, incredibile, incredibile, momento magico, meraviglioso, ciao, 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 ciao Grazie a tutti.